Terza guerra di indipendenza italiana. Bismarck, appena tutto pronto, nell'estate del 1886, iniziò la guerra contro l'Austria, che durò tre settimane. Affronta via terra l'esercito austriaco sul fronte italiano, ma a Custoza l'esercito italiano viene sconfitto e anche via mare all'Issa. Garibaldi nel 67 con i suoi volontari riportò qualche successo in Trentino. Bismarck invece sul fronte prussiano sconfigge l'esercito austriaco a Sadoa e l'Austria perde influenza sulla confederazione germanica e cede il Veneto all'Italia e questa è considerata la terza guerra di indipendenza italiana nel 1866. L'imperatore d'Austria nel 67 riconosce l'indipendenza all'Ungheria e Austria e Ungheria diventano due paesi distinti, ognuno col proprio governo e parlamento, ma l'imperatore d'Austria divenne re di Ungheria. Quindi l'impero d'Austria e il regno d'Ungheria avevano lo stesso imperatore e re. Nacque l'impero austro-ungarico.